come va? dica io c'era uno qui e boh che sta? bella vita bella vita? comunque da sano non è facile non è facile da sano eh comunque mi arrivi Stefano presente? dai che c'è un'intervista ma fai un'intervista ma vetti ti aspetta per un'intervista fatela adesso a che ci vuole stasera insomma queste curve sono brutte eh? un po' di virus comunque hai 21 euro spesi bene eh no spesi bene se vai ancora ce l'ho miglia hai scanato quei 6 litri d'acqua che hai bevuto eh si con un po' di tartufo un po' di tartufo allora monta su giù scusa scusa ma fello ecco vieni Stefano ciao 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 ciao